Ma Venoso, qualsiasi cosa noi facciamo secondo le sue regole di funzionamento e il suo adattamento non è nel giro di due giorni, ma il suo adattamento noi lo vediamo correttamente nel periodo che va fra i 12 e i 24 mesi, per cui bisogna avere pazienza, tant'è che nello studio spagnolo nei primi sei mesi lo stripping era in vantaggio sulla conservativa, poi le due curve dei risultati si sovrapponevano a un anno di distanza e a due anni cominciava una divaricazione delle due curve di risultati con le recidive che aumentavano per lo stripping e rimanevano ad un livello più basso per la conservativa e a cinque anni c'era una percentuale di recidive del 22% con la conservativa e del 44% con lo stripping. Quindi in sostanza la conservativa va anche a lavorare, a migliorare il circolo venoso, tende a… Diciamo che è un compromesso che lavora nel senso, diciamo nell'interesse del drenaggio dei tessuti e della conservazione del patrimonio cipendico. E essendo conservativa eventualmente può essere ripetuta.